Io registro che per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità, terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti in Italia. Ma senza i vaccini sarebbe stato magari peggio? Io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro il cecchino. Dico solo che non abbiamo l'onere della prova inversa del tir come col Titanic. Cosa c'entra il Titanic adesso, scusi? Magari senza l'iceberg. Ma cosa? Magari cosa? Magari poteva andare peggio. Io non cado nella trappola di essere pro o contro John Wayne, ma magari senza cowboy poteva andare peggio? Che con i cowboy qualcuno si è salvato? Perché non tutti i cowboy vanno in una mira buona, ma il bisonte se si incazza ti prende, boom! Questo dibattito mi sembra surreale. Fratelli di Crozza, torna live! Grazie a tutti!